Avrebbe fatto una gaffo la bella e simpatica e sexy Barbara Russo oggi 17 gennaio 2016 a domenica live. In questa puntata di Anna tra gli altri ospiti ci sono stati la bella Katia Pedrotti e il simpatico Ascanio Paescelli coppia più che consolidata che ha portato ovviamente la loro proria allo studio di domenica live così la bella Barbara con la figlia di Katia e Ascanio avrebbe chiesto te lo ricordi il matrimonio di mamma e papà? No perché non c'è insomma sarebbe stata una tra virgolette gaffa che da un mio punto di vista ci può stare non è niente di strano di assurdo di male è qualcosa che c'è nella vita di ognuno perché tutti secondo me chi più chi meno almeno una volta nella vita ha commesso una gaffa l'importante però è per così dire essere tra virgolette consapevoli di aver commesso eventualmente una gaffa e rendersene conto per così dire evitare in futuro di compierne eventualmente un'altra grazie carriventi il video termina qua iscrivetevi commentati se in esso fossero presenti delle inesattezze delle falsità o delle informazioni che non dovessero corrispondere alla verità dei fatti me ne scuso in quanto chi vi parla non è un giornalista pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsiasi voglia natura grazie a tutti grazie a tutti